il soffio della vita tra oriente ed occidente in questo terzo video dopo un breve riassunto procediamo con l'analisi del soffio il soffio vitale dunque anima ogni vita e anima ogni vita dalla nascita con il primo vagito il primo respiro alla fine dei giorni quando si esala invece l'ultimo respiro nella tradizione occidentale il respiro il soffio è stato sempre messo in relazione con la vita tant'è vero che attraverso un soffio il signore alita e dunque trasmette la vita che attraverso le narici si comunica all'uomo perché divenga un essere vivente questo è quello che dice la bibbia nella genesi il soffio vitale è stato studiato in occidente ed è stato definito agli inizi dello scorso secolo quando einstein ha dimostrato con la sua equazione e uguale a mc4 che la vita ogni forma di vita è un'incessante trasformazione è un'incessante trasformazione di energia in massa e di massa in energia non esiste la massa non esiste l'energia quello che esiste questa continua trasformazione reciproca secondo un coefficiente uguale al quadrato della velocità della luce einstein ha dimostrato tutto questo agli inizi del novecento ma i cinesi 2.500 anni orsono avevano anticipato questa equazione con il tai chi tu i due pesci dell'emblema yin e yang che vediamo in questa slide a sinistra che si trasformano incessantemente l'uno nell'altro generando il chi l'uomo assimila il chi del cielo e della terra e lo trasforma in chi umano attraverso l'azione degli organi e dei visceri secondo la medicina tradizionale cinese la sua vita dunque è resa possibile dalla trasformazione circolazione distribuzione del chi dalla sua continua rettificazione attraverso gli organi i visceri e i relativi canali vasi meridiani a sua volta il chi dell'uomo può essere definito con varie denominazioni a seconda del ruolo che svolge all'interno del corpo quello più rarefatto che corrisponde al nostro psichismo al nostro mentale prende il nome di shen chi e governa gli elementi mentali correlati agli organi i visceri ai tessuti agli apparati questo è l'ideogramma shen a sinistra vediamo il radicale di qualcosa che scende dall'alto per essere ospitato si dice nell'antica medicina cinese all'interno del sangue e del cuore una forma di chi più condensata relativa all'identità personale e alla trasmissione della vita prende il nome di jing chi e risiede nel sistema renale dove sovraintende all'identità gametica genetica immunitaria cellulare questo è l'ideogramma jing che dà l'idea di un processo di distillazione tant'è vero che spesso viene definito come quintessenza energetica e poi c'è l'energia cosmica attivatrice di tutti i fenomeni biologici definita energia sorgente yuen chi e l'ideogramma yuen è un ideogramma che dà l'idea di una sorgente dalla quale sgorga l'acqua che dall'alto si dirige verso il basso esiste anche una forma di chi che svolge attività nutritiva e prende il nome di jing chi o chi nutritivo a sinistra vediamo l'ideogramma ying che rappresenta dei fuochi all'interno di un accampamento perché si sta cucinando qualcosa per nutrire ed esiste anche una forma di chi che svolge funzioni difensive wei chi è il nome del chi difensivo e qui vediamo a sinistra i due radicali e a destra i due radicali che compongono l'ideogramma centrale il movimento e il cuoio perché perché ovviamente per difendere le sentinelle hanno bisogno di circolare sempre all'interno di un accampamento rivestite di un'armatura di cuoio gli organi e i visceri sono il luogo dell'assimilazione della trasformazione della eliminazione contemporaneamente il luogo del metabolismo dell'immagazzinamento del cipere rimantenimento della vita il sistema dei vasi e dei canali o meridiani rappresenta il complesso circuito vitale una rete di canali di distribuzione che permette al c di diffondersi in tutto l'organismo allo scopo di mettere in comunicazione di nutrire gli organi visceri tessuti gli apparati le varie strutture del nostro organismo la salute si mantiene se il c viene assimilato trasformato distribuito ma anche se viene purificato correttamente ogni alterazione di questi fenomeni è in grado di provocare lo squilibrio che porta alla malattia e tutte le tecniche di terapia della medicina cinese comprese le ginnastiche mediche che a questo scopo si servono in maniera assai brillante proprio del governo del respiro e dunque del soffio sono orientate a favorire il mantenimento di questa armonia energetica e la sintonizzazione del singolo con l'armonia energetica del macrocosmo ma proviamo a ritornare alle funzioni respiratorie correlate al ci vediamo che il polmone svolge un ruolo fondamentale la medicina cinese assegna al polmone il compito di essere il maestro del ci perché quest'organo svolge un ruolo fondamentale nella produzione trasformazione e distribuzione in questa slide vediamo un'immagine del canale di polmone questo fenomeno è così determinante che la cronobiologia cinese assegna al polmone il comando della prima ora del giorno per sottolineare come il suo ruolo non sia solo quello di permettere che il ci prodotto circoli incessantemente nel corpo nutrendo tutti gli organi attessuti ma sia quello di governare la sua messa in movimento molti antichi testi definiscono il polmone un grande mantice che da una parte permette la respirazione dunque l'assimilazione del ci del cielo e dall'altra favorisce la circolazione del ci in tutto il corpo e contemporaneamente il polmone governa propulsione e circolazione del ci dell'uomo secondo la medicina cinese tutti i fenomeni respiratori sono governati dal polmone sia la respirazione toracica che permette lo scambio di ossigeno e anidride carbonica ma anche quella cellulare che determina la combustione del glucosio la sua terra e la trasformazione di adp in atp è governata dal polmone d'altra parte anche in biomedicina si parla di respirazione polmonare e cellulare non è un caso che il sintomo più specifico delle patologie croniche polmonari sia in medicina cinese la stanchezza come esito della carenza di produzione distribuzione di energia all'interno del corpo quanto affermato fino ad ora giudistifica la grande attenzione che la medicina cinese dedica al polmone tonificandola attraverso i punti di acupuntura e massaggio qui vediamo il punto 13 vescica che è il punto shu del polmone sul dorso oppure con l'uso di cibi o erbe medicinali che sono in grado di rinforzarne le funzioni qui la radice di astragalus membranaceus wang qi un tonico del polmone oppure attraverso la ginnastica medica che è in grado di allenare il polmone attraverso il governo del respiro e facilita così le sue funzioni nei limi che ne elimina i blocchi di origine fisica o psichica qui vediamo il suono del polmone il suono sia utilizzato proprio per tonificare il polmone desidero concludere sottolineando che è molto suggestivo verificare come sia in cina come in occidente il soffio vitale sia stato così diffusamente studiato descritto addirittura venerato e se nel nostro mondo è servito a denominare l'aspetto più prezioso di ogni uomo la sua anima perché animos significa soffio significa vento in cina è alla base dello scem del mentale come afferma vang chong nel primo secolo dopo cristo il ci produce il corpo umano come l'acqua si trasforma in ghiaccio l'acqua si congela nel ghiaccio il ci si coagula nel corpo umano afferma vang chong quando il ghiaccio si scioglie si trasforma in acqua quando la persona muore diviene di nuovo spirito video di medicina dall'italia alla cina a cura del dottor lucio sotte visita il sito internet www.lucio sotte.it per informazioni su avopuntura medicina cinese medicina integrata